C'era qui nella tasca. Ehi, fate piano. Che ha fatto Crunch? Ladri di Tronchi. Fate vedere le mani. Tu no. Mani pulite, certo. La crema è tutta nel buffer. Tronchi non sporca, ma crocca. Dai, che te ne abbiamo lasciato uno. Ti ho messo paura, eh? Tronchi, fuori croccantissimo, dentro morbidissimo.